1 e 9 minuti, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Come si poteva immaginare, è arrivato il provvedimento più drastico per il contenimento del coronavirus nel nostro paese. Da domani tutta l'Italia sarà zona rossa, fino al 3 aprile resteranno chiuse scuole e università come cinema e teatri, bar e ristoranti dovranno chiudere invece alle 18. Sospesi tutti gli eventi sportivi, l'annuncio l'ha dato questa sera il Premier Conte. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola, ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Il Premier Conte parla in una drammatica conferenza stampa, tesa a lungo e trasmessa in diretta dalle principali tv in tutto il mondo, con cui illustra le nuove misure in vigore già da domani mattina, valide per tutte le regioni fino al 3 aprile. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate, vanno cambiate ora. Nel dettaglio dunque Conte spiega che resteranno chiuse tutte le scuole e tutte le università. Sono vietati tutti gli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico, come quelli serali nella cosiddetta Movida. Sospese tutte le manifestazioni sportive di qualsiasi tipo, dunque stoppa anche le partite di Serie A a porte chiuse. E per gli spostamenti il Presidente del Consiglio puntualizza. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze. Comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, aggiunge Conte, il momento della responsabilità per tutti. Non è all'ordine del giorno comunque una limitazione dei trasporti pubblici. E questo, sottolinea Conte, per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare. Sarà possibile l'autocertificazione per la giustificazione degli spostamenti. Inoltre il Presidente del Consiglio annuncia che il Governo si prepara a chiedere all'Unione Europea altro deficit e che è molto probabile che presto sarà nominato un supercommissario al coordinamento dell'emergenza coronavirus. Si parla di Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile. Intanto oggi il numero dei positivi al coronavirus è salito a quota 7.985 e quello dei decessi a 463. E quella di oggi è stata una giornata nera non soltanto per i numeri drammatici del coronavirus, ma anche per il crollo delle borse mondiali. La peggiore è stata Milano. Dall'Asia all'Europa, passando per Wall Street, è stato il lunedì nero delle borse mondiali. Per effetto di un doppio colpo, da una parte, le ricadute del coronavirus sull'economia nelle ultime due settimane andate di pari passo con l'espansione dei contagi. Dall'altra, il mancato accordo all'OPEC sul greggio. La Russia non accetta tagli e la produzione a Riyadh risponde aumentando la sua e abbassando i prezzi. Una vera guerra per il controllo del mercato del petrolio che fa crollare il prezzo. Meno 25%, a 31 dollari al barile. Non accadeva dalla prima guerra del Golfo. All'apertura dei mercati questa mattina un'ondata di vendite si è abbattuta su Piazza Affari. La peggiore in Europa. Milano perde da solo a 51 miliardi, arrivando a cedere oltre 12 punti. Per chiudere a meno 11,17%. Malissimo anche Francoforte, Londra, Parigi e Madrid. Pagano anche le banche. Dopo una raffica di sospensioni, la Consob è costretta ad escludere che siano in corso speculazioni. Si va avanti così, tra le proteste di molti economisti. Un massacro. Tutti i titoli sono in calo, anche quelli legati al petrolio. Anche perché l'Agenzia Internazionale per l'Energia prevede che la domanda globale di Greggio dovrebbe contrarsi quest'anno per la prima volta dal 2009 contagiata dal coronavirus. Il differenziale tra BTP e Bund schizza fino a quota 230 contro i 178 della scorsa settimana e poi si attesta a 225. Malissimo le borse asiatiche. Anche qui, per il combinato disposto coronavirus-petrolio, Tokyo perde il 5%, la Cina il 3%. La durissima protesta nelle carceri italiane. I detenuti chiedono garanzie sanitarie contro il contagio e contestano le restrizioni imposte dal governo. Sette detenuti sono morti a Modena dopo aver assaltato l'infermeria, danni ingenti a 22 strutture. La situazione più drammatica a Foggia, dove un'ottantina di detenuti è riuscita ad evadere dal penitenziario. 20 sono tuttora in fuga. Lo stop ai colloqui con i familiari per contenere il contagio è stata la scintilla che ha infiammato le carceri. Proteste violente, padiglioni devastati, mentre i detenuti chiedevano amnistia o indulto contro il coronavirus. Ci sono stati feriti e sette morti, questi ultimi tutti reclusi nel carcere di Modena. Dopo l'assalto all'infermeria, la morte per overdose da psicofarmaci per tre di loro nello stesso penitenziario, mentre gli altri quattro dopo i trasferimenti in altri istituti di pena. L'evasione di massa a Foggia, circa 80 detenuti sono fuggiti dopo aver divelto il cancello della Block House, la zona che li separava dalla strada. Una quarantina sono stati subito catturati, mentre una ventina è tuttora ricercata. Quattro di loro sono particolarmente pericolosi. Un'altra evasione di massa è stata attentata anche dal Lucciardone di Palermo. Tensione anche al carcere di San Vittorio a Milano, dove i detenuti sono saliti sui tetti gridando libertà e bruciando carta e stracci. Roghi anche negli istituti di pena romani, Regina Celi e Erbibbia. Davanti a quest'ultimo penitenziario i parenti dei detenuti hanno fatto un sit-in di protesta per il ripristino dei colloqui. A Melfi alcuni agenti penitenziari sono stati sequestrati, mentre a Rieti è stato occupato l'intero istituto. Sulla giornata di caos è intervenuto il ministro della giustizia Bonafede per rassicurare gli animi. Stiamo lavorando, ha detto, perché vi siano cautele mediche per garantire la più rapida ripresa dei colloqui con i familiari. E come abbiamo sentito, anche il campionato di calcio si fermerà fino al 3 di aprile. Stop anche alle attività sportive amatoriali. Alle manifestazioni sportive è stato dedicato un solo ma importante paragrafo del decreto Io resto a casa, emesso da Palazzo Chigi. La sospensione di ogni evento, a cominciare dalle partite di Serie A, sarà effettiva sino al 3 aprile ed è stata decisa poche ore dopo una riunione con tutti i presidenti di federazione e con il numero uno del CONI, Giovanni Malago. Sospensione quindi valida per tutti gli incontri. Restano invece esclusi i match validi per le coppe europee. Da domani infatti scatta il turno di Champions League con l'Atalanta impegnata a porte chiuse sul terreno di Valencia, fra roventi polemiche innescate dalla stampa spagnola. Dura la reazione della nera-azzurro Gomez nei confronti dei giornalisti che lo pressavano all'aeroporto ignorando le regole di sicurezza anti-coronavirus. Pensate che si è passata l'eliminatoria? Che si è passata. I tifosi del Valencia hanno preannunciato che domani si ritroveranno fuori dallo stadio per caricare la loro squadra nonostante le porte chiuse. Rimanendo in Spagna, il Consiglio interterritoriale del Sistema Nazionale di Salute ha decretato lo svolgimento a porte chiuse di Siviglia-Roma di Europa League in programma giovedì. Probabile un'analoga soluzione anche per il retormatch Barcellona-Napoli del 18 marzo, valido per la Champions. Già decisa invece la chiusura al pubblico per Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund ed Olympiacos-Wolverhampton. Non rinviata ma cancellata definitivamente Basilea-Eintracht di Europa League per ordine del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza Svizzero. È un altro segnale che sarà difficile ignorare da parte di una UEFA che pare avere come unico obiettivo scongiurare lo slittamento dei campionati europei. In attesa delle prossime decisioni, il posticipo Sassuolo-Brescia, terminato 3-0 per il Neroverdi, può essere una partita di cui per un po' ci ricorderemo. Ed era l'ultimo servizio, l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.